A parte questi personaggi che lietano la giornata degli ospiti, ci sono delle situazioni particolari che vale la pena guardare o sentire? Particolari! Di este come zona, per esempio, la mattina vuoi trascorre una bella giornata? Vai alle grotte e ti fai mezza giornata di visitazione di grotte, fermare sulle spiagge, ti fai il bagno dove l'acqua è limpida, Senta, signor Leonardo, ci parli un po' dell'amministrazione locale, com'è? Senti, per il momento lasciamo la politica, perché dove c'è politica c'è rottura! Ma i cani in questa città si fanno sentire? Sono cani di canale 5, 3 fanno... Senta, a proposito dei pappagalli, ci stanno animali diversi da questi, voglio dire? Ci stanno anche le rane! Ah, e come fanno le rane? Dove è gracida, senti sgricchiolare il gracido! Comunque l'intervista può, un attimo so, può terminare qui! Noi avremmo preferito che il signor Rinaldi... Mario, chiudi, chiudi! Ci rincesse qualcosa... Ciao! Ciao!